Davanti ai botteghini dello Stadio Olimpico dove i tifosi alle nostre spalle stanno facendo la coda per acquistare i biglietti per l'importantissimo ottavo di finale contro lo Zenit di San Pietroburgo, nonché anche per le tante importanti partite di campionato contro la Lazio, che in questo momento è davvero una delle più belle sorprese della Serie A. Andiamo ad ascoltare che cosa dicono i tifosi stessi. Allora, fatto il biglietto per Torino-Lazio, per lo Zenit invece... Per lo Zenit no, mancano i soldi. Come va con la Lazio e come va con lo Zenit? Ma con lo Zenit sicuramente si passa il turno, è ora. Eh, giovedì è duro perché quelli non giocano a calcio, giocano a un calcio europeo, noi giochiamo a un calcio semplice, fatto di sacrificio, però se usiamo la testa ce lo possiamo fare, come contro il biglietto. Con lo Zenit sicuramente sia una bella partita, l'importante è che vada avanti l'italiano, per cui speriamo che laggiù non finisca troppo male e poi far giocaresela qua, dai. E con la Lazio forse è ancora più difficile o no? Eh, la Lazio sì perché ha fatto 4 per la Lazio-20, quindi è fantastico. Noi abbiamo preso perché secondo me è una bella partita, con la Lazio è una bella squadra, vediamo come va. Anche con la Lazio è dura? Con la Lazio sì, anche con la Lazio, forse più con la Lazio che con lo Zenit secondo me.